Interrompere il contagio della crisi economica causata dall'emergenza sanitaria attraverso il potere della bellezza. È l'obiettivo dell'iniziativa Scatta l'estate promossa da Acer Energie, Enerxegna e AEV Energie per cercare di rimettere in moto il turismo del territorio. Si tratta di un concorso fotografico. Chiunque a partire dal 21 giugno e fino al 20 settembre potrà postare sui social la foto di un luogo che ama, delle province di Como, Lecco, Monsebrianza, Sondrio, Varese, Venezia e Udine inserendo l'hashtag Scatta l'estate e una breve descrizione. Le foto saranno raccolte in un social wall e andranno a costituire una sorta di guida turistica degli utenti per gli utenti. Tra quelle postate 15 verranno selezionate da una giuria, in palio pacchetti turistici da spendere sul territorio promuovendo così il turismo locale. È un'iniziativa che mira a provare a sostenere il turismo di prossimità che sembra essere la parola d'ordine di questo 2020. Dai sondaggi che si sentono in televisione il 78% circa degli italiani trascorrerà le proprie vacanze nella propria regione o in quella confinante e quindi noi che abbiamo il privilegio di fornire sei province diverse su due regioni che sono la Lombardia e il Veneto, una contigua all'altra, ci siamo chiesti come potessimo provare ad aiutare il nostro territorio ad uscire dalla crisi. Speriamo nel potere contagioso della bellezza in maniera che ciascuno con una fotografia possa invogliare magari i vicini della provincia di fianco a venire a trascorrere un giorno, un pomeriggio, un fine settimana o perché no tutte le vacanze all'interno dei propri territori.